Ciao Anna, io sono il dottor Burton. Ciao. Ti va di parlare con me? Voglio parlare con Marissa Wigler. Dile che arriverò stasera. Sono Marissa Wigler. Volevi parlare con me? Tranquilla. Non piangere. Questa storia non deve uscire da qui. Dà un'occhiata al suo sangue. Non può essere. Si è formata con Eric Keller. Ho lavorato con lui. Sa cose che non vorreste immaginare. Ricorda quello che ti ho detto, te la caverai. Ripetilo. O ti adatti o muori. Decidi al volo. Anche mentre dormo. Tu chi sei? Sono Anna. Se vuoi che siamo amiche devi essere sincera con me. Vorrei averla un'amica. Adesso ci baciamo. Sei proprio matta. Anna? Ti prego, volevo solo baciarti. Cosa vuoi, Marissa? Devi fare alcune cose che la mia agenzia non mi permette di fare. Ci sono persone che vogliono farmi del male. Qualunque cosa succeda, non seguirmi. Anna! Ho cercato di prepararti. Non mi hai preparata per questo. Corri, piccola volpe! Alla fine era come speravi. Meglio. A volte anche i bambini sono persone cattive.